Puoi usarla per pulire le spugnette? Che dici Gina, ci stai? Proviamo! Dunque, prendiamo la nostra immancabile spugnetta di stuzz Immergiamola Strizziamola bene E ora via con lo shampoo Ok, ora accendiamo il getto E sciacquiamo Oddio, un po' è scomodo, eh Strizziamo bene, oddio E niente, un pochino si è lavata, ma non del tutto Direi esperimento fallito